Buonasera e bentrovati. La terza edizione della TG6. La senatrice Dem Stefania Pezzopane conferma che il governo sta studiando le misure per dare contenuti al programma Casa Italia destinato alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio a rischio sismico. Filippo Tronca. Messe in sicurezza del patrimonio edilizio a rischio sismico italiano. Il tema ritorna puntuale nell'agenda politica dopo ogni terremoto. Già, chi potrebbe obiettare del resto la necessità di agire prima delle catastrofi e non dopo per contare i morti? Il problema sono però i soldi e anche i tempi. Bisognerebbe agire su milioni di appartamenti, in particolare nelle aree interne del paese, e c'è chi preventiva cifre iperboliche superiori ai mille miliardi e tempistiche superiori ai 50 anni. La senatrice del Partito Democratico, Stefania Pezzopane, proinvita a crederci. Il programma Casa Italia spiega ai nostri microfoni già allo studio del governo e avrà una dotazione nell'ordine dei miliardi. Certo, un intervento immane da far tremare i polsi, ma l'importante è cominciare. Abbiamo già in una commissione congiunta Camere e Senato con il sottosegretario De Vincenti impostata l'idea di un programma, Casa Italia, che dovrà svilupparsi per diversi anni e che dovrà avere un finanziamento permanente di svariati miliardi per consentire all'area più a rischio dell'Appennino di poter effettuare quelle ristrutturazioni e quegli adeguamenti sismici che finalmente potranno dare sicurezza ai cittadini. La senatrice evidenzia poi che decisivi saranno gli incentivi per intervenire sulle seconde case, che rappresentano il grosso del patrimonio edilizio a rischio, comunque abitato nei paesi dell'interno. Ora, gli stessi che per l'Aquila non vollero la ricostruzione delle seconde case, inneggiano la ricostruzione delle seconde case. Quindi si sta riaprendo un discorso anche su questo, perché poi le esperienze insegnano che i borghi hanno per l'appunto una loro integrità architettonico-urbanistica, non possono essere trattati come dei pettini sdentati, per cui ci sono dei denti che vanno rimessi a posto ed altri che invece rimangono rotti. A Teramo la riapertura delle scuole comunali, prevista per il 12 settembre, è sempre più in dubbio a causa delle perplessità sulla tenuta antisismica degli edifici. È molto probabile che la prima campanella slitterà al 19 settembre, così come già accaduto per le scuole superiori. Alfredo Primante. Sarà il 19 settembre, non il 12, il giorno della prima campanella negli istituti scolastici superiori di Teramo. Dopo i problemi registrati nei plessi a seguito del terremoto dello scorso 24 agosto, e poiché lo sciame sismico non smette di far tremare la terra, il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, ha chiesto al sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, di posticipare di una settimana il rientro nelle scuole degli studenti del capoluogo. Un'istanza che è arrivata da alcuni dirigenti scolastici che in una nota inviata alla provincia hanno richiamato l'attenzione sul fatto che la maggior parte degli studenti nuovi iscritti non conoscono gli edifici scolastici e non hanno mai fatto prove di evacuazione. In più, in alcune istituzioni sono ancora in corso i lavori di ristrutturazione e quindi, mettono nero su bianco i dirigenti, Loredana Di Giampaolo, Clara Morchella, Caterina Provvisiero e Achille Volpini, nessuno vuole sottrarsi alla responsabilità, ma, in una situazione ancora incerta, è opportuno gestire la riapertura con calma e serenità, senza una tempistica convulsa. Per quanto riguarda invece la situazione delle scuole materne, elementari e medie, ieri pomeriggio nella sala consigliare del comune di Teramo, il sindaco ha incontrato una rappresentanza di una sessantina di genitori preoccupati dalla sicurezza degli edifici in cui mandano i propri figli a scuola. Una riunione che doveva essere chiarificatrice e che, invece, a molti non è servita a fugare i dubbi. Noi abbiamo capito, le scuole sono agibili ma non sono sicure. Abbiamo capito che una scuola vecchia, già lo sapevamo perché ci siamo informati, forse a differenza loro, che una scuola vecchia risistemata non può essere antisismica, può essere migliorata per il sisma. La mia domanda era come mai, dopo il 2009, in una zona che fa parte della faglia, che attiva, non siano state adeguate le scuole. C'è stato risposto che sono state controllate 9 scuole su 31. Per cui il sindaco spera che non arrivi il terremoto, noi tutti speriamo che non arrivi il terremoto, se domani arriverà il terremoto non lo sappiamo perché lui non ci può dare garanzie. Di sicuro al momento resta il fatto che solo 12 scuole su 31 hanno ricevuto le verifiche strutturali antisismiche e per le altre 19 servono circa 220 mila euro, ragion per cui, al massimo entro dopodomani, il sindaco di Teramo dovrebbe decidere sullo slittamento della riapertura delle scuole comunali, anch'esse, con ogni probabilità, destinata ad accogliere gli studenti il 19 di settembre. E questa mattina il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso ha avuto un incontro con il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, per discutere dell'agibilità da verificare nelle scuole del centro Peligno. All'incontro erano presenti anche l'assessore regionale Andrea Gerosolimo, l'assessore comunale ai lavori pubblici Mario Sinibaldi e l'architetto del genio civile di L'Aquila Giovanni Mascetta. Il sindaco Casini ha fatto presente che la struttura tecnica comunale sta procedendo ad una nuova verifica dell'agibilità in tutte le 16 scuole cittadine e il lavoro sarà completato al massimo entro giovedì 15 settembre. Il presidente D'Alfonso ha chiamato il capo del Dipartimento per Repubbliche della Regione Abruzzo e Midio Primavera per dare supporto tecnico quantitativo allo staff del Comune e si è impegnato a reperire risorse per gli interventi di sistemazione puntuale ai fini della conferma dell'agibilità. Contestualmente nel tavolo nazionale convocato per redigere il progetto Casa Italia D'Alfonso farà presente il dossier sul Mona per un adeguato programma di interventi tenendo conto dello specifico storico dell'edilizia pubblica della città. E' stata definita la cessione del quotidiano d'Abruzzo il centro. La comunicazione ufficiale è arrivata nel pomeriggio ad opera del gruppo Espresso. La proprietà passa ad un gruppo di imprenditori abruzzesi capeggiato da Luigi Pierangeli. Il quotidiano il centro cambia proprietà e passa ad un gruppo di imprenditori abruzzesi capeggiato da Luigi Pierangeli, noto imprenditore della sanità privata ed editore dell'emittente Rete8. Con Pierangeli ci sono il costruttore aquilano Luigi Palmerini e il terramano Cristiano Artoni, imprenditore nel campo della distribuzione editoriale ed ex presidente della Banca di Teramo. La comunicazione ufficiale è arrivata nel pomeriggio ad opera del gruppo Espresso che ha annunciato di aver perfezionato la gestione dei quotidiani il centro e la città di Salerno, quest'ultimo passato ad una holding che fa capo agli imprenditori Lombardi e Scarlato. Le operazioni, spiega la nota del gruppo Espresso, si inseriscono nel piano di deconsolidamento teso a garantire il rispetto delle soglie di tiratura previste dalla normativa in vigore nella prospettiva della futura integrazione con la stampa e il secolo XIX. Il passaggio avrà efficacia una volta esperite le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi entro il 31 ottobre 2016. Il gruppo Espresso ringrazia tutto il personale del centro e della città di Salerno per il grande impegno di questi anni e augura buon lavoro nella certezza che le testate continueranno a rappresentare una voce informativa fondamentale per l'Abruzzo e la provincia di Salerno. Accanto al pool di imprenditori che ha rilevato il centro, Pierangeri, Artoni e Palmerini, ci sarà anche l'aquilano Alberto Leonardis che sarà, da quanto si apprende, l'amministratore della nuova società editrice. Sull'operazione si è espresso il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che così ha commentato, sono profondamente contento che ci sia un editore già titolare di esperienza comunicativa. Quello che avevamo paventato si è realizzato. Il gruppo Espresso vende il centro senza alcun coinvolgimento del corpo redazionale, smettendo fino all'altro giorno la possibilità di vendita del quotidiano. Questo è il commento del presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta. Siamo vicini alla protesta dei redattori e dei collaboratori del centro e auspichiamo immediatamente, ha proseguito Pallotta, un incontro con la nuova società editrice di cui fanno parte imprenditori che nel campo hanno una pluriennale esperienza per verificare le intenzioni editoriali ed anche l'intangibilità dell'attuale organico del giornale. In Consiglio Comunale a Pescara questa mattina si è discusso dell'applicazione della norma sul cambio di destinazione d'uso degli edifici. La regolamentazione è ancora incerta e potrebbe dare spazio ad abusi legalizzati. Francesca Romana Tessi. Cambio destinazione d'uso sì, ma non si sa come. Il Consiglio Comunale di Pescara oggi ha aperto la seduta mettendo sul tavolo quello che sembra essere una contraddizione in termini tra normativa e applicazione della stessa. Se da un lato sarà possibile sbloccare tante situazioni di stallo edilizio permettendo il cambio di destinazione tra commerciale e privato, dall'altro sembra molto più complicato mettere nero su bianco una regolamentazione per la sua applicazione. Noi speriamo che si possa scrivere una delibera che sia efficace per salvaguardare due aspetti fondamentali. Da un lato ovviamente sempre l'interesse generale della città per fare in modo che le variazioni comunque rispettano le scelte del suo sviluppo armonioso, dall'altro anche quello di fornire uno strumento utile per coloro che fanno economia in questa città. Qual è in realtà il problema che tiene bloccata questa norma e soprattutto la sua applicazione? Innanzitutto il fatto che dopo 20 mesi dall'approvazione della norma statale il Comune non ha ancora disciplinato la materia per evidenti responsabilità di questa amministrazione comunale ma anche del governo regionale guidato da D'Alfonso che avrebbe dovuto recepire con una propria legge la disciplina nazionale invece non l'ha fatto. C'è il rischio di un caos regionale? Sicuramente c'è il rischio che non ci sia un'unitarietà di intenti e comunque di regolamentazioni. Qualcosa che chiediamo noi è quello appunto di sottoporre al contributo straordinario tutte le pratiche che vengono presentate in base al decreto sviluppo allo sblocca Italia e anche al recupero abitativo dei sottotetti. Questo vediamo che ad esempio nella regione Veneto viene sottoposto al pagamento del contributo straordinario. Il Codacons Abruzzo ha promosso una class action contro il Comune di L'Aquila per la problematica riguardante l'installazione o la revisione dei contacalorie degli alloggi del progetto case. Paolo Renzetti. Il Codacons regionale ha intrapreso una class action contro il Comune di L'Aquila per ottenere l'installazione o la revisione di contacalorie in ogni alloggio del progetto case allo scopo di ottenere per quanto attiene la fornitura di gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria l'esatta ripartizione del costo riferito ad ogni piastra in base alle risultanze di appositi contatori individuali e non più in base alla sola superficie dell'alloggio. Il Codacons della regione Abruzzo aveva già intrapreso una precedente analoga iniziativa poi terminata per cessazione della materia del contendere. Non essendo poi stato però rispettato quanto previsto dalla norma il Codacons Abruzzo ha dapprima diffidato il Comune affinché provvedesse ed ora intrapreso una class action pubblica alla quale potranno aderire tutti coloro che sono interessati alla vicenda. L'amministrazione lamenta concrete difficoltà economiche a fronte di un progetto che prevederebbe una spesa di circa 7 milioni di euro. Il Comune però, ad avviso del Codacons, non tiene conto di alcune circostanze, niente affatto trascurabili oltre la metà dei contacalorie presenti. Infatti negli alloggi del progetto case sono già perfettamente funzionanti. Con una spesa molto più modesta si potrebbe dunque provvedere alla loro revisione, alla sostituzione di quelli guasti e all'installazione di quelli mancanti. Il tutto serva all'associazione con notevole risparmio di spese. Non si riesce davvero a comprendere, conclude la nota del Codacons Abruzzo, la ragione dell'installazione di nuovi impianti altamente tecnologici ed altrettanto costosi in alloggi di tipo emergenziale destinati in parte alla dismissione. Il Premier Renzi ha annunciato di voler diminuire drasticamente la presenza di slot machine nei locali pubblici a causa del crescente numero di giocatori che sviluppano dipendenza patologica. Il CERT di Pescara lancia un appello a tutte le vittime di gioco d'azzardo. Ascoltiamo. Evidentemente il Governo si è reso conto del fatto che i costi soprattutto del danno sociale e della cura sono superiori a questa parte di entrate che non si avrebbe più a seguito di questa proposta. Italia ha il primo posto in Europa e terzo nel mondo dopo Stati Uniti e Giappone per la dipendenza patologica da gioco d'azzardo. Pescara e l'Abruzzo tra le prime in Italia per giocate pro capite, circa 1.500 euro a testa. Si calcola che nella città di Pescara ci siano 1.500 giocatori patologici attualmente in cura presso il SERD dell'ospedale civile di Pescara. Sono 150 i pazienti in cura. Purtroppo e per fortuna sono sempre di più le richieste di aiuto significa che sta emergendo sempre di più questa problematica da parte delle persone che prendono sempre di più coscienza. Dopo l'annuncio del Premier Renzi che punta a ridurre del 30% la diffusione delle slot e visti i costi procurati alla sanità per le tante dipendenze create parte un nuovo appello da parte degli esperti. Noi qui al SERD curiamo le patologie proprio da gioco d'azzardo da due anni e voglio dare un messaggio ai cittadini a tutti coloro i quali hanno questo problema dentro le case e non sanno dove rivolgersi c'è questo servizio presso l'ospedale di Pescara SERD è assolutamente gratuito basta fare una telefonata si può chiamare e soprattutto da questa dipendenza si può uscire. Dalla comunicazione dell'emergenza alla comunicazione sociale se ne è parlato in un dibattito organizzato dall'Urban Center di L'Aquila Filippo Tronca dalla comunicazione dell'emergenza alla comunicazione sociale questo è il tema al centro del tavolo tematico avviato dall'Urban Center dell'Aquila costituito da una sessantina di associazioni nato un anno fa come strumento di partecipazione dal basso riconosciuto dal comune come interlocutore istituzionale. L'Urban Center va subito detto ha avuto finora una vita difficile diviso da dissidi interni tra le varie anime del civismo aquilano vittima anche delle procedure burocratiche forse poco snelle e funzionali ma che ora vuole recuperare il tempo perduto partendo proprio dalla buona ed efficace comunicazione ingrediente fondamentale per favorire la partecipazione attiva dei cittadini appunto rendere note le proposte concrete in tema di politiche sociali, economiche, culturali, urbanistiche della città elaborate dagli altri tavoli tematici al nostro microfono Maurizio Sbaffo presidente dell'Urban Center Siamo all'inizio dei lavori del tavolo partecipativo sono state messe sul piatto del dibattito e della discussione molte argomentazioni dal focus group costituito dal giornalista Angelo De Nicola dal professor Cianciotta Stefano Cianciotta dell'Università di Teramo e dal nostro concittadino Massimo Lesi i temi sono stati moltissimi e saranno approfonditi nel proseguo della mattinata e soprattutto nel pomeriggio sui tavoli di approfondimento che si può dire? si può dire che tutto questo lavoro sulla comunicazione lo riteniamo fondamentale propedeutico a quello che sarà poi il successivo sviluppo delle argomentazioni da parte dello Urban Center perché riflettere su come comunicare su quali sono gli strumenti corretti su quali non lo sono è fondamentale perché noi abbiamo visto nella nostra storia recente quali disastri possono essere compiuti da una comunicazione errata al via le giornate informative sull'ISA inclusione sociale attiva che vede regione IMS a fianco dei cittadini con redditi bassi in sinergia a tutela delle fasce più deboli siamo impegnati come IMS come tutte le amministrazioni comunali per unire gli aiuti in queste situazioni di disagio ma anche i progetti di inclusione attiva successivi in modo tale che questa attività che noi svolgiamo non si limiti esclusivamente a questo sostegno in questo momento che il governo ha voluto mettere per queste fasce deboli ma che poi possa portare a situazioni di miglioramento strutturale delle situazioni di difficoltà tutti i cittadini possono ottenere le informazioni rivolgersi ai comuni poi successivamente dopo che il comune avrà fatto la prima valutazione invierà a noi entro 15 giorni le istanze dei cittadini noi faremo le valutazioni sull'ISEO su altre eventuali forme di sostegno che già percepiscono da noi e poi vi sarà appunto l'accoglimento nel caso in cui ci dovesse essere una necessità di istruttoria o eventuali purtroppo reiezioni noi saremo sempre a disposizione perché per fornire tutte le informazioni le risorse ci sono sono state destinate anche alla regione Abruzzo e speriamo che le siamo sicuri che le domande saranno tante noi saremo a disposizione come istituto perché questa forma di sostegno possa raggiungere gli scopi per le quali è stata istituita il SIA che cos'è? è uno strumento che consentirà alle famiglie quindi chi andrà a richiedere il sostegno dovrà avere un minore a carico o un disabile o una donna in stato di gravidanza ed un ISEE familiare inferiore o uguale a 3.000 euro annuali un ISEE come capirete è bassissimo eppure questo Cuba 17 milioni di euro quindi ci sono purtroppo in stato di gravi difficoltà in Abruzzo moltissime famiglie è di un sostegno di inclusione attiva perché non è una misura assistenziale noi chiediamo in cambio di questo piccolo aiuto economico chiediamo un impegno alla famiglia che sarà sostenuta dagli assistenti sociali per uscire dal proprio stato di esclusione sociale non solo donazione di sangue ma anche lavoro unitario per esercitazioni e stage d'addestramento così Croce Rossa e Guardia di Finanza continuano il lavoro in sinergia intanto sono stati premiati i finanzieri che si sono distinti nelle donazioni di sangue all'Aquila Daniele Rosone sono stati consegnati gli attestati e le medaglie della Croce Rossa italiana ai finanzieri che con maggior frequenza hanno donato sangue in Abruzzo si tratta del generale Flavio Agnello comandante regionale delle Fiamme Gialle Pietro Proietti, Luca Crisi, Marco Neri Angelo Giuseppe De Lucia Antonio Di Fonso, Marco Pietrucci Giovanni Rappuano, Fabio Grilli Stefano Galli, Giovanni Macchierolo Graziano Porfirio, Massimo Ciampinelli Diego Iannucci, Fabio Lattanzi Domenico Di Paolo, Marco Losti Alessandro Keller, Roberto Razio Clemente Fiore De Paulis Simone Ferracuti, Achille Giuliani Felice Di Lascio, Francesco Raponi Presente alla cerimonia Gabriele Perfetti Presidente del Comitato Regionale Abruzzo della Croce Rossa italiana l'iniziativa rientra nelle linee programmatiche del protocollo d'intesa stipulato all'indomani del sisma dell'Aquila del 2009 che segna una profonda e consolidata collaborazione ormai tra la Guardia di Finanza e la Croce Rossa italiana finalizzata non solo alla donazione di sangue ma anche alla promozione allo sviluppo di attività congiunte in materia di esercitazione di protezione civile stagio addestrativi, campagne di sensibilizzazione e fini della sicurezza e della tutela sociale Una sinergia che va avanti già da tempo con la Guardia di Finanza abbiamo trovato questo grande accordo che poi non si limita solo chiaramente ai sequestri ma soprattutto una cosa che sta particolarmente a cuore anche alla Croce Rossa in quanto prevista nel proprio statuto ma anche come missione a livello nazionale è quello della raccolta del sangue Noi non vogliamo certamente dimenticare i nostri generosi donatori e a loro dedichiamo appunto un attestato per ricordarli per ricordare loro anche di arrivare a donare insomma con una certa cadenza E tra gli appuntamenti domenica prossima appuntamento a Loreto a Prutino con Gustevole la manifestazione punta alla valorizzazione delle carni di indicazione geografica protetta Far conoscere ai consumatori e ai ristoratori agli operatori della grande distribuzione le caratteristiche di due carni bovine e ovine a marchio IGP il vitellone bianco dell'Appennino Centrale e l'agnello del Centro Italia e l'obiettivo di Gustevole iniziativa in programma domenica 11 settembre a Loreto a Prutino in provincia di Pescara un progetto nato dall'associazione regionale allevatori e portato avanti in collaborazione con l'assessorato alle politiche agricole finanziato con i fondi del nuovo PSR Vogliamo con questo anno di attività che si declinerà attraverso incontri con i consumatori con la grande distribuzione con gli operatori del settore vogliamo cercare di riagganciare il contatto con il consumatore è oggi sempre più scosso dai comunicati, dagli allarmismi quindi quando vediamo parlare di carne rossa in senso generale mettendo sullo stesso piano un filetto di marchigiana e una salsiccia prodotta in Stati Uniti con ormoni questo allora ci fa capire come sia importante avere momenti anche di informazione di comunicazione corretta è una fiera che si fa insomma dagli anni 50 e quindi insomma abbiamo dato continuità a questo evento anche perché non possiamo tralasciare insomma il passato quest'anno abbiamo deciso insieme insomma al consiglio direttivo di rilanciarla su una tre giorni che di solito si fa solamente la domenica mattina e abbiamo dato insomma un segno a quello che è appunto insomma tutto ciò che gira intorno alla zootecnica insomma l'agricoltura e anche quest'anno il 10 settembre Montorio Alvomano ricorda Federica e Serena con note su ali di farfalla le due studentesse che hanno perso la vita durante il sisma all'Aquila del 2009 torna il consueto appuntamento di fine estate con note su ali di farfalla notte per Federica e Serena promosso dall'associazione culturale Federica e Serena in omaggio alla memoria di Federica Moscardelli e Serena Scipione studentesse terramane di medicina all'università di L'Aquila vittime del terremoto del 2009 come tutti gli anni anche quest'anno stiamo organizzando una bella serata in loro ricordo che avrà appunto come destinatario del ricavato insomma della serata un beneficiario particolare che quest'anno è il soccorso alpino e speleologico della regione Abruzzo perché proprio grazie a loro che Marta Valente che era a casa con Federica e Serena è stata estratta dopo 23 ore dalle macerie e chiaramente questo grazie si amplifica anche in relazione a quelli che sono i fatti accaduti alla vicina matrice e quindi la nostra manifestazione sarà certamente dedicata anche a loro durante la serata tante sorprese come al solito e quindi la cantante diciamo di punta sarà Ginevra Di Marco che ha fatto parte dei CSI e dei PGR insieme a Francesco Magnelli e Andrea Salvatori per una musica di sapore popolare e poi abbiamo tante altre sorprese infatti saranno presenti diversi ospiti come le due campionesse olimpiche Fabrizia Dottavio e Daniela Masseroni Il discorso è quello comunque di guardare più la parte sociale di questo evento perché per quanto riguarda la parte artistica è come sempre la manifestazione di livello con artisti importanti è chiaro che noi però vogliamo guardare la parte sociale perché ci sentiamo un po' toccati siamo vicini a questa associazione e che c'è anche insita nel suo nome una persona a noi molto cara e speriamo anche nel futuro di poter riuscire a sviluppare meglio questa collaborazione con l'associazione affinché si possa realizzare anche qualcosa di più bello sempre nel ricordo di chi non c'è più La manifestazione è patrocinata dai comuni di Teramo, Montorio, Bisenti dal consorzio BIM e dall'ente parco Gran Sasso, Monti della Laga Un'associazione che fa molto e soprattutto il fatto di raccogliere dei fondi e devolvere il ricavato all'associazione Alpini e Speleologi della Regione Abruzzo è sicuramente un qualcosa di importante e naturalmente speriamo che l'evento sia seguito da molti Ed ora passiamo alla pagina sportiva cresce l'attesa per il posticipo di domenica tra Pescara e Inter tra i biancazzurri particolari motivazioni per gli attaccanti Manai e Caprari di proprietà dei Nerazzurri nell'Inter oggi primo allenamento per il portoghese Joao Mario mentre rientreranno domani dal Sud America Miranda, Murillo e Banega Il servizio Davanti ad una cornice di pubblico da tutto esaurito all'Adriatico Cornacchia il Pescara sfiderà l'Inter in un momento già particolare per le due squadre Da una parte il Pescara viaggia sulle aree dell'entusiasmo per le buone prove con Napoli e Sassuolo e la vittoria a tavolino conseguita con la squadra di Di Francesco dall'altra l'Inter sta ancora metabolizzando la nuova guida tecnica di Frank De Boer e viene dagli stenti delle prime due giornate una cosa è certa entrambe le squadre cercano la prima vittoria sul campo in campionato una vittoria che dalle parti della Pinettina viene attesa con ansia per non accumulare ulteriori ritardi dalle dirette concorrenti a Pescara potrebbe esserci la prima di Joao Mario il portoghese campione d'Europa uno degli ultimi colpi di mercato dei nerazzurri per Gabigol che proprio domenica proderà a Milano il debutto ci sarà a fine mese doppia seduta odierna per De Boer e primo allenamento proprio per Joao Mario assenti i nazionali sudamericani Miranda, Murillo e Banega che rientreranno in Italia domani e solo venerdì si alleneranno col gruppo mentre lavora già con i compagni Medel rientrato anzitempo dagli impegni con la nazionale Ansaldi e Nagatomo saranno assenti a Pescara in casa del Delfino si continua a lavorare Ghiomber ha un problema ad un polso ma ci sarà in caso di complicazioni sarebbe pronto Coda che ha recuperato dall'infortunio subito col Napoli Oddo potrà contare sulla voglia di ben figurare davanti alla squadra che ne detiene il cartellino da parte degli attaccanti Caprari e Manai c'è un minimo di possibilità che i due scendono in campo insieme come titolari anche se l'assetto visto nelle prime due gare con Caprari centravanti sostenuto da Verra e Benali sembra il più probabile intanto i precedenti all'Adriatico sorridono decisamente alla Benamata che ha vinto 5 volte su 7 nelle ultime due circostanze anche con tanti gol 1-4 nel novembre del 92 e 0-3 nella prima giornata del campionato 2012-2013 a segno Milito, Schneider e Coutinho l'unica vittoria bianca-azzura risale al primo precedente 2-1 nell'aprile del 78 con autogol decisivo di Bini l'unico pareggio nel gennaio dell'88 con il botta e risposta nel primo tempo tra Sliscovic e Passarella Andiamo in Lega Pro il Teramo sabato pomeriggio alle 18.30 sarà impegnato al Bottecchia di Pordenone contro i Neroverdi c'è curiosità per vedere il modulo che proporrà Lamberto Zauli intanto Carraro da stanotte papà facciamo gli auguri a lui e alla compagna utilizzato col Bassano in posizione di esterno-sinistro chiarisce la sua posizione in campo ascoltiamolo sicuramente qualcosa è mancato perché diciamo che tutti si aspettavano qualcosa di più da me i primi anni che sono uscito dalla primavera devo essere sincero ho fatto un po' di fatica a misurarmi con il calcio vero poi questione anche di allenatore di fortuna di tantissimi fattori però sicuramente la differenza l'ha fatta la testa forse di testa sono maturato più tardi rispetto a altri giocatori in questi anni infatti magari come si dice non vorrei usare un effemismo però mangiando un po' di merda diciamo sono venuto sono maturato molto e adesso ho un altro tipo di mentalità sono un esterno ho già parlato con il mister di questo di sicuro non sono un esterno però il mister mi ha detto che lo posso fare io mi adatto e comunque come lo vuole il mister che posso venire dentro al campo e venire a fare anche il trequartista secondo me lo posso fare di sicuro non sono l'esterno che ti sta sulla linea laterale che ti punta l'uomo in velocità diciamo che stare lì a sinistra ho bisogno di toccare tanti palloni mi piace venire dentro al campo insomma sono un centrocampista alla fine a Pordenone ci ho giocato è da due anni che ci gioco soprattutto l'anno scorso ha fatto un campionato che nessuno si aspettava sono una squadra organizzata che ha fatto il plof l'anno scorso e si è rinforzata molto e giocano anche un buon calcio quindi di sicuro sarà una gara una gara difficile e dovremo e dovremo ribaltare soprattutto la partita di Lumezzani perché fuori casa non abbiamo la spinta del Bonolis e secondo me è un fattore importante nella testa quindi secondo me è soprattutto una gara di testa siamo noi nemici di noi stessi e si è chiusa la campagna abbonamenti del Teramo con la vendita di 514 tessere 236 per la tribuna 195 per la curva 46 distinti e 37 alla poltronissima e domenica scorsa ad Alfdena in provincia di L'Aquila si è svolta la prima edizione del Triathlon dei Sanniti la gara ha avuto come sfondo gli splendidi scenari del territorio soddisfatto il primo cittadino Massimo Oscura ascoltiamo questa è la prima manifestazione che rientra nel nostro progetto Alfdena Paese del Benessere che vuole sfruttare tutte le bellezze naturalistiche che vuole sfruttare l'archeologia di Alfdena che ha un insediamento sannitico di primaria importanza se non tra i più importanti d'Italia che vuole sfruttare la cultura degli alfedenesi già Paese dei Dottori e questo è il nostro primo progetto lo vogliamo ripetere il prossimo anno pensiamo verso la fine di giugno prima di luglio abbiamo in animo insieme alla Federazione Italiana Triathlon di realizzare anche un winter triathlon e cioè corsa, mountain bike e sci di fondo e questo è il nostro anfiteatro bellissimo nella quale ogni anno verso la fine di marzo si svolgono delle gare regionali di fondo abbiamo anche avanzato alla FISE la Federazione Italiana Sport Invernali la richiesta di poter organizzare i campionati italiani di sci di fondo per ragazzi per il 2018 insomma siamo un comune estremamente attivo dove l'amministrazione si dà da fare non soltanto in termini squisitamente amministrativi ma nel senso che fa cioè si sporca le mani prende le mazze rompe le pietre asfalta dove deve asfaltare insomma tutti si danno una mano per ottenere questo risultato che a mio giudizio è stato bellissimo anche e soprattutto a detta degli atleti